La regione è un sistema in difficoltà, secondo la nostra tradizione, l'ho fatto anch'io nella mia azienda sanitaria, per prima cosa si tira il freno ovviamente delle assunzioni, si blocca o si riduce, quindi si agisce sulle risorse umane in quanto si sa che hanno un'incidenza oltre che in termini di costi diretti, anche poi di costi indiretti, ogni medico è un prescrittore e ogni medico che assume sono centinaia di migliaia di euro che volano. Ok, detto questo però bisogna anche immaginare un superamento diciamo di quest'altro dogma, in quanto processi riorganizzativi che dobbiamo fare necessariamente possono comportare l'esubero di talune figure professionali e l'assoluta carenza di altre, cioè non puoi oggi non avere i pronti soccorsi ben attrazzati, non puoi non avere gli anestesisti che non ti consentono poi di valorizzare anche le capacità dell'equipe chirurgiche che hai, quindi il processo riorganizzativo è in grado di risolvere un po' il problema, un po', però solo un po', perché peraltro la gestione delle risorse si incrocia con un altro fattore nuovo, assolutamente nuovo che non abbiamo ancora ben ponderato, che è il calo esponenziale che ci sarà nei prossimi anni di riduzione di medici specialisti, noi assisteremo nei prossimi anni, già lo stiamo vedendo, la difficoltà di reperire sul mercato specialisti, ma ormai un tempo c'erano gli radiologi, gli anestesisti, oggi sono i pediatri, gli ortopedici, diciamo un po' di tutto, ecco, quindi questo ci porrà, c'è un altro tema grosso, cioè come riduzione delle risorse umane specialistiche in termini anche un po' numerici, il bisogno di organizzare, quindi comporterà sicuramente una maggiore esigenza di plasticità in quest'area, insomma, è un'area su cui pur tenendo dei paletti fermi dobbiamo comunque essere più elastici, pena il decadimento qualitativo del sistema, perché è chiaro che se ne manca una figura fondamentale, tutto il sistema si scassa e poi una volta, diciamo, perduto il valore aggiunto di una struttura, non è poi così facile, mi riferisco in particolare a talunni ospedali brillanti anche di Napoli, no, del famoso ospedale della collina, che risentono oggi anche proprio di mancanza di figure essenziali, ancorché di nuove figure, parliamo della necessità di informatici per implementare tutti i processi di e-medicine, oggi se non hai ingegneri informatici, ma parecchi, preparati, qualificati, va rovesciata proprio la piramide anche della struttura del personale, leggi non ti servono un sacco di persone, dicevano poche persone, ma molto preparate e qualificate dalla decisione della logistica, ripeto, sistemi informativi e altri, è cambiato un po' tutto il paradigma, quindi bisogna che entriamo in questa nuova visione, questa nuova concezione del governo, delle risorse umane sicurissimamente, quindi far saltare taloni tabù semplicissimi e semplicistici, e poi c'è il tema del debito, che ovviamente è un tema grosso, insomma, che l'Italia non può porsi, perché ovviamente non puoi pagare due anni, perché diversamente non hai capacità negoziale, non hai credibilità, insomma, subissi in qualche maniera il mercato anziché governarlo, no? E questo è un altro tema, oltre che un tema economico, è un tema poi che si riflette anche poi, in maggiori lunguaggi, degli apparati amministrativi che devono poi far fronte a tutte le richieste, gli impignoramenti, eccetera, all'ira di Dio, insomma, anche di costi, poi ai costi legali, eccetera, eccetera. Benissimo. Detto questo, passiamo all'ultimo contributo, che è il contributo del Nissan, il network italiano sanitario per la condivisione dei costi standard, di cui parlavo prima, qui rappresentato oggi dalla dottoressa Carraro, direttore generale dell'azienda sanitaria del Veneto, e dal direttore scientifico dell'associazione, professore Pasdere, ci siamo conosciuti da tanti anni, ma l'Alzheimer gioca un po' di scherzi in camè, insomma. Ho mancato di dire che Federsanità ha stipulato un accordo con il consorzio di costi standard per far aderire i propri aderenti, e come federazione per organizzare un grosso evento in autunno in cui possiamo confrontarsi su queste nuove metodiche. Nuove metodiche che non sono solo il confronto di numeri, ma anche una nuova filosofia, perché ne parlavamo con il professor Pasdera, dell'importanza, se vogliamo valorizzare la dimensione territoriale, di superare il concetto di DRG, che è tipicamente legato alla struttura australiera, per andare al modello degli HRG sul sistema inglese, insomma, che analizzi l'intero percorso di cura, così potremo avere anche ovviamente importanti informazioni supplementari. Sì, allora, magari fin tanto che cercano le slide, meglio precisare questi due aspetti, che a questa distanza va bene? Che prima lo ho detto. Intanto il Nisan è un network italiano appunto per la sanità, che si fonda sull'associazione di 18 aziende sanitarie ULS. Queste 18 aziende... No, non è questa. Se vuole le do la chiavetta, le mettiamo dentro? Il Nisan è un'associazione che è nata nel 2008, dunque molto molto giovane. inizialmente con quattro aziende, poi via via è andata aumentando a 18 aziende. Queste 18 aziende sostanzialmente Nisan, Network Italiano per la Sanità. Aspetti che... Un colpo di scena abbiamo trovato... Sì, magari li apro a produttire due. Pasvera. Ok. Basta per andare avanti. Allora, sostanzialmente gli obiettivi sono questi. Quello sostanzialmente di... Perché era quello che serviva alle aziende, di identificare degli standard che rispettino quello che era stabilito dalla legge 133 del 2008, ovvero determinare i costi standard intesi in senso aziendale. Cioè in sostanza dire per un determinato prodotto, prestazione, un dato tipo di ricovero, un dato tipo di percorso ambulatoriale o territoriale, o un episodio ricovero, quanto costa e che cosa si dà con quel ricovero. Questo era l'obiettivo per un'azienda. Sempre nell'ottica che se in parte siamo un'azienda, dovremmo anche sapere che cosa si dà con un prodotto. Sostanzialmente, che cosa è stato fatto alla fine? Attraverso una tecnica sostanzialmente omogenea. Prima cito la composizione del Nissan. Il Nissan per il momento è ancora molto spostato verso il nord. Per cui sostanzialmente ci sono due aziende della Puglia, poi le altre fanno parte praticamente del Triveneto, Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta e Liguria. Sostanzialmente perciò è ancora molto molto spostato verso il nord. Questo è un elemento che vorremmo piano piano cercare di migliorare e coprire, per cui in effetti alcuni standard potrebbero essere magari un po' troppo efficienti, anche se dentro c'è la provincia autonoma di Bolzano, che ha un costo del personale molto più elevato, per cui ci permette di avere un dato paradossalmente abbastanza buono. Sì, si trattano bene in sostanza. Per fare questo, ed è questo in sostanza cos'è il Nissan, che cosa si fa? Praticamente questi sono i criteri per fare i costi, ma contemporaneamente per aderire al Nissan. Ovvero è necessario che una struttura dia dei dati di costo, abbia un'analisi organizzativa, traduca in parole povere, non basta sapere qual è il costo del personale della propria chirurgia, bisogna sapere se sti chirurghi stanno in sala operatoria, stanno in reparto o da qualche parte. Avere un'analisi della produzione, sostanzialmente le sdo, nel caso che finora il prodotto, la specialità e la casa, per il momento sono gli episodi di cover. Nel raggio di un anno, vorremmo passare invece a qualcosa di molto più completo. E soprattutto, il quarto punto, una metodica uguale per analizzare i costi, cioè sostanzialmente per unire questi tre elementi, costi, analisi organizzative e sdo. La tecnica che abbiamo utilizzato è la stessa che viene utilizzata, va bene, in altri paesi. Sostanzialmente i requisiti che vengono rispettati sono essenzialmente quelli dell'International Standard Cost Model, questo è il manuale sostanzialmente fondamentale per chi vuole fare dei costi standard, in generale, non solo per la sanità. L'altro è quello del Clinical Costi Standard, dell'HFMA, che è in assoluto il livello di standard, addirittura noi cerchiamo di rispettare quelli 2011-2012, per gli episodi di ricovero. Questi sono i due grandi capisaldi, a livello internazionale, per poter fare i costi. Abbiamo utilizzato perciò, essenzialmente la metodologia che utilizzano loro, ovviamente calata nella realtà italiana. Per l'anno 2007, noi cos'è che abbiamo fatto? Per l'anno 2007 era fondato su otto aziende, il campione era 360.000 ricoveri, dunque abbiamo fatto il costo per episodio di ricovero per ognuno di quei 360.000, e abbiamo lavorato gli standard di costo, per dire G, tipo di ricovero, disciplina di dimissione. per il 2008-2009, tra qualche mese, appunto usciremo con gli standard 2008-2009, sulla base di 11 aziende, e su un campione di 800.000 ricoveri. produrremo ugualmente gli standard di costo, ma a grande richiesta, a parte gli associati, anche degli standard di carichi di lavoro, perché, sì, è importante sapere quanto costa, ma vogliamo sapere quante ore di lavoro ci vuole per quel dato tipo di regi, quante ore in sala operatoria, quante ore invece ci lavorano i reparti, quante ore ci lavorano i servizi, e così via. Questo è un aspetto importante. Molto in velocità, vi dico che sostanzialmente, il dato deriva da questo. Questo che vedete, non lo spiegheremo approfonditamente, dunque tranquilli, ma questa è la scheda per ogni singolo episodio di ricovero. Per cui qua vedete che l'episodio di ricovero ha un costo di 44.000 euro, ma qui visualizzato anche quanto costa in termini di personale medico, infermieristico, e per le diverse attività. Possiamo vederlo forse più chiaramente, scusate, salto questo perché non ci sia tempo. Ecco, per esempio, abbiamo raccolto i dati di tutti gli episodi di ricovero e aggregandoli, per esempio, per un DRG, per un dato tipo di ricovero ordinario, per esempio, del DRG 198 con le CISTA, e per una data di sciplina e di missione. Quello che c'era richiesto da tutte le aziende era non sapere solo quanto costava quel DRG, ma che differenza ci fosse per un paziente che usciva da chirurgia, da rianimazione, da dermatologia, piuttosto che da medicina generale, a parità di diretti di tipo di ricovero. Per cui, ci interessava sì andare a individuare qual era il suo costo pieno, 4.000 euro, ma quello che ci interessava molto di più era sapere com'era la sua composizione, cioè, quanto era di degenza, ma soprattutto, ciascuno, quanto era quella data attività, per esempio, per l'adegenza, sapere quanto era anche per il reparto, per l'intensiva, per il resto. Sì, sapere quanto era il costo di sale operatoria, ma soprattutto, qual era il costo degli anestesisti, per esempio, per sapere se, per esempio, abbiamo un costo alto, va bene, perché produciamo poco o perché li paghiamo molto o qualcos'altro. Poi, il costo dei servizi in termini di laboratorio e di ideologia, ma soprattutto, interessava sapere per ogni tipo di risorsa, medici, qual era il costo, per esempio, dei medici per le diverse attività, il costo degli infermieri per le diverse attività, lo stesso per l'altro personale, lo stesso per i farmaci, lo stesso per i presidi e per gli altri costi. Questo per ognuno dei DRG, per ogni tipo di ricovero all'interno di quel DRG e per ogni reparto di dimissione di quel DRG. Faccio un attimo una premessa. Questa metodologia non rispetta solamente gli standard internazionali di quelle due associazioni fondamentali, ma tra l'altro rispetta anche, è stata usata la stessa metodologia per elaborare i costi standard da parte dell'unica associazione scientifica che finora a livello italiano ha elaborato dei costi standard per DRG, cioè l'IOM, l'oncologia. Voi sapete che l'anno scorso la società italiana di oncologia ha fatto un famoso progetto IOM-Rosch che ha elaborato i costi solo sul campione delle oncologie, otto oncologie di grande livello, esclusivamente per i pazienti di oncologia. L'aspetto importante è che il lavoro è fondato proprio sugli episodi di ricovero, dunque noi li abbiamo aggregati per DRG, ma potremmo anche aggregarli per diagnosi di dimissione, patologie e quant'altro. Un aspetto fondamentale però che sarebbe il vero punto di arrivo nostro sarebbe questo. È vero che noi abbiamo fatto finora i ricoveri, noi adesso vogliamo passare alle prestazioni ambulatoriali ma soprattutto andare alle attività territoriali perché vorremmo arrivare qui, cioè agli HRG che non è una nuova sigla per fare qualcosa di diverso. Gli HRG sono praticamente un sistema che è nato ufficialmente li ha chiamati così nel 2004 in Inghilterra e in Gran Bretagna scusate dove sostanzialmente lo dicono a me interessa tutto il percorso di un dato tipo di utente paziente cardiovascolare eccetera eccetera che si compone ovviamente di tre grandi non è solo questo ma per semplicità gruppi, ricoveri, prestazioni ambulatoriali e attività territoriali. Dunque potrei costare 100 in un'altra regione ugualmente costare 100 ma potrei dargli cose molto diverse perché da me è 80 di ricovero 20 di ambulatoriale un'altra regione può costare apparentemente pochissimo come ricovero ma solamente perché poi dà una svalangata di prestazioni sul territorio e quant'altro. Questo perché quello che noi vorremmo arrivare è praticamente avere una filosofia fondamentale che è quella sostanzialmente canadese che poi è partito tutto questo lavoro nel 94 che è quello non è tanto importanti i costi della struttura non sono neanche tanto importanti i costi dei singoli prodotti ma è importante sapere il costo di quell'utente perché se io costo per diversi prodotti molto poco ma poi ne uso tantissimi alla fine l'utente costa tantissimo dunque questo è l'aspetto importante tramite i processi ma non i processi nel senso tradizionale del termine ovvero all'interno solo del ricovero o all'interno solo dell'ambulatoriale ma tra il ricovero tra l'ambulatoriale e tra l'attività territoriale questa è la novità sostanzialmente l'HRG ovviamente per fare questo per farlo in maniera seria dobbiamo prima essere molto forti sui costi per i ricoveri poi essere molto forti sull'ambulatoriale sul territorio e poi trovare i collegamenti tra i due questo ci abbiamo lavorato in questi 3-4 anni adesso siamo in grado con ogni probabilità non per la fine dell'anno ma per il prossimo di riuscire ad attuare gli HRG certo la base date che abbiamo sui ricoveri è molto molto buona perché arrivare a 800.000 ricoveri do un indizio a livello europeo i costi standard la nazione che è i costi standard col maggior numero di casistica attualmente è la Svezia che lavora su 1 milione 1 milione 200 mila casi dunque con 800.000 casi è molto molto buono già questo tipo di standard non arriviamo al 1 milione 800.000 casi del Canada non ci arriveremo mai studiati anche in un certo modo con un certo livello di professionalità però è già un livello molto buono l'aspetto importante innovativo però è proprio quello degli HRG cioè sostanzialmente andare a individuare non tanto il costo per l'episodio ricovero che è un tassello nella stazione ma il percorso che è quello che può dare a un'azienda e di converso poi a tutta una regione la possibilità di andare a vedere cosa vedrete fra poco dove come è possibile riuscire a lavorare per ridurre i costi senza andare a ledere la qualità detto questo credo che magari viene passata la parola all'avvocato Carraro che può far vedere adesso la parte dell'utilizzazione di questo buongiorno a tutti vista l'ora sarò velocissima quando abbiamo deciso come fare questo intervento abbiamo pensato di suddividerlo in due punti la prima parte la spiegazione della teoria dei principi su cui ci basiamo e la raccolta dei dati come la facciamo all'interno del network la seconda parte che è questa la presentazione di come una direzione generale può utilizzare i dati perché se siamo consapevoli che mettiamo a disposizione della collettività un patrimonio di costi standard elaborati su questo numero di ricoveri dicevamo da 380.000 a 800.000 quindi sicuramente un costo attendibile sul piano della veridicità siamo anche consapevoli che il primo utilizzo che dobbiamo fare all'interno del network è a livello delle nostre aziende per migliorare l'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi che ci sono dati dalla regione quindi vedete come ho dato proprio un esempio tra l'altro ho scelto non tanto un DRG un episodio di ricovero ma ho scelto una unità operativa ho scelto un'unità operativa recupero ed educazione funzionale volutamente per due motivi il primo è che l'attività di ricovero di RRF notoriamente è un'attività ad alta appetibilità da parte delle strutture non pubbliche di RRF